Buonasera, benchia tazza a Gnovis. La procedura di licenziamento dai 451 dipendenze di Varsila e gli estade revocate a decidilo all'estate il giudice dal lavoro del Tribunal di Trieste che l'ha accettato il ricorso presentato da sindacati di categorie sul comportamento antisindacale di aziende con sede a Sandorlì de Val. Il gruppo finlandese all'estate condannato a pagare 50 mila euro a ogni dune dei sigli sindacali in più che ha pagamento delle spese legali se hai pubblicazione dal decreto su diversi quotidiani nazionali. Soddisfazione perché è stata ripassa in tal contrasto e decisione unilaterale delle aziende e gli estade esprimute dal Ministri del Disviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. La impostazione di Varsila è vicenda e gli estade sbagliate e cemute che segnalate in maniera ripetuta alla sclari Giorgetti. O sin contens paio lavoradores. Un zovine di 20 setanze all'estate denunziato per aver diffonduto video sintetiche privati di una zovine di Gurizze. L'autore del reato, clamato Revenge Porn, alveve filmare la zovine in un momento privato, senza il suo consenso, per dopo inviare il video a un gruppo con tanti utenti, passandolo dopo anche altre persone. Il video dunque ha avuto grande diffusione, tant'eriva a misde vittime che gli estadi propri di loro visate. Decisivis, l'investigazione della Polizia Postale che ha permesso di identificare il zovine e di chiedere in tal suo cellulare il video incriminato, conduto che il forse è cancellato. Incidenza stradale grave a Sacil con una femmina di 30 nufain americane che gli è restate ferite in mood seri. L'incidenza frontale alle succedute po' prima delle 11 miei e alla viuduta resta ferite tre persone. Che è più grave è stata la cittadina americana, è stata inchiastrata tra i lamarines dal veicolo che gli è stata portata in ospedale, in elicottero, dopo che si è stata deliberata da guardi dal fuga. All'estate chiatat vif, anche se stracca e infredulì, l'om di 80 anni di Pordenon che si è pierdut in tai boss di plam dal chiaval, ieri dopo di misdi. A chiatà lui ha sono stati i homes dal soccorso alpino, giudati dei sbuardi dal fuga. Diversi troi sono stati battuti dai tecnici che ha effettato. L'uomo aveva perduto in plena il senso dell'orientamento e all'iere da ora vago là di ori di l'un dei sclevis del mondo. All'estate dunque accompagnata va da là che lo spiettavano la femmina e la fia. Una bottega di genars alimentars di Monfalcon è stata sanzionata per più di 1000 euro per irregolarità delle polizie locali. Gli agenzi hanno accertato dentro dal locale poche condizioni igieniche, cui da ora e bottega è intrigata di fornimenti di lavoro o in tassai sa e buine e due lavandini scence aghe corinze chialde. L'esercente di nazionalità bengalese al doprave continui d'ors per abitudine e s'accusa per il confinzionamento degli aliments al minuto non idonei. Di là di molte, l'attività è stata sospenduta. La protezione civile dal Friul Vinesi e Iulie partirà domenie bandelis marchis per aiutare le popolazioni colpite dell'alluvione che ha causato 11 morti e 2 dispiarduzzi. A Dilua è stato il vicepresidente regione Riccardo Riccardi, sclarince e mut che saranno tanti i volontari sin partenza pal'centri Italia a lì e contune trentine di miecce. La domanda è arrivata da ira alla sclarire Riccardi dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e l'aveva accettata da urmai. La missione durerà una settimana e i volontari furlans si interessaranno di rimozione dei trizi e pantani e metodi in sicurezza dalla lì e di qualche torrent. Gli squadri dal Friul Vinesi e Iulie si uniranno a che già in chiamp che avevano in di Venet, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Abrucce. Quasi duzenti studenti sono stati in place e vedi a Buinore e a Udin per protestare in difesa del clima. I giochi, a parte dei loro colleghi di Gurizia e Trieste, hanno sfilato con cartelli e strisci per domandare a politica regionale, nazionale e mondiale un impegno più forte sulla crisi climatica in A. In Chiafi, i fantazzi dal Fridays for Future che hanno convocato il Siopar, ma non sono mai inchiati su altre associazioni ambientalistiche. Il corteo è sfilato tra Placial Cavedalis e Placio Venerio e Dula che si è fermato e Dula che i Zobins hanno potuto esprimare le loro idee sul clima. Il sindico di Udin, Pietro Fontanini, ha visitato questa mattina le chiasi che avvineranno buttati su in tal quartier di San Domeni e che avvineranno ricostruiti con i fondi del PNRR. Settemane prossime partiranno gli stramudi dai residenti interessati dal lotto del Comune e gli spamei hanno voluto chiedere il primo cittadino. Dari i costi che avveranno di fronte per adeguare certi spazi dei chiasi la che allaranno a essi a sta alla commentata e fin dall'inquintri il sindico o dare in loro un aiuto per facilità il trasferimento. Arrivino a 40 milioni di euro gli risorsi stanziati dell'amministrazione regionale con l'ultima manovra di assestamento per smolare la pressione economica e fiscale sulle aziende del territorio. Taccando ai 12 di ottobre si poteranno ottenere di 1.000 a 2.000 euro di risorse regionale per compensare al manco l'import il chiarbollettis. Le domande sono riservate a micro imprese piccoli e medie alla sclarilla l'assessore regionale Sergio Emidiobini e a son fonds di poter orgare da urmai per cui cala a cumò un aumento di presi dalle energie superiore al 30% appena dal 2021 E per questa sera alle 2 novis e torne lunis Buona serata Mandi Buona serata Buona serata